La collezione Perez-Simon, che ha sede a Città del Messico, è una delle raccolte artistiche private più importanti dell'America Latina. L'assemblaggio della collezione fu avviato all'inizio degli anni 70 e nel corso degli ultimi decenni ha riunito un importante e notevole numero di opere d'arte che comprende dipinti, sculture, opere grafiche e altri oggetti artistici che vanno dal XIV al XX secolo. I 57 dipinti presentati al pubblico qui alla Fondazione Memmo sono solo un esempio della ricchezza della collezione, della quale la scelta costituisce un riflesso fedele. Il percorso proposto infatti parte dal XIV secolo con opere della scuola italiana per terminare con il XIX secolo, uno dei punti di forza della collezione messicana. L'itinerario si apre con i dipinti italiani e tedeschi dal XIV al XVI secolo con opere di Spinello a Retino, benvenuto di Giovanni, Bronzino e Luca Crana che il vecchio, rappresentato da due tavole, una di esse intitolata La Carità. Tra gli artisti fiamminghi e olandesi del XVII secolo si trovano tra gli altri Bruegel il Giovane, Rubens, Anton Van Dyck e David Tenier il Giovane con composizioni sacre, allegorie e ritratti. Il XVII secolo è rappresentato dalle tele di due tra i più famosi vedutisti dell'epoca, Giampaolo Pannini e Canaletto alternati a opere di Giambattista Tiepolo, del francese Jean-Marc Nattier e di Francisco de Goya, presente con uno splendido ritratto su tavola. Il XIX secolo è stato suddiviso in tre sezioni, accademismo e realismo, pittura vittoriana e impressionismo e post-impressionismo. Queste sezioni comprendono, suddivisi per temi, alcuni dei criteri serviti per assemblare la collezione Perez-Simon. Per esempio il piacere per la bellezza, la sensualità e l'amore per la terra, che si plasma nelle scene che rappresentano il mondo rurale e i lavori nei campi. Tra i pittori della sezione accademismo e realismo risaltano Jean-Baptiste Camille Corot, Alexandre Cabanel, Jean-Leon Jérôme e Julien Dupré. Il mondo vittoriano e la sua estetica, una delle sezioni più affascinanti per la quantità e la qualità delle opere esposte, si esprime grazie a Dante Gabriel Rossetti, Sir Lorenz Alma Tadema, John William Waterhouse ed Henry Arthur Payne. La mostra si chiude con le tele di pittori impressionisti e post-impressionisti come Pizarro, Monet, Gauguin e Van Gogh. Con essi si chiude brillantemente il XIX secolo come pure il percorso espositivo che la Fondazione Memmo propone e che svela parte dei capolavori dell'importante collezione privata messicana. Grazie per la visione!